Questi sono i cibi tipici di ogni paese. Devi nei commenti qual è il tuo piatto preferito. Canada, i pancakes, che vengono mangiati a colazione e sono accompagnati con lo sciroppo d'acero. In Argentina, le empanadas, dei fagottini con carne e verdura. Spagna, la paella, del riso con carne, pesce e verdura, che viene cotto in una pentola enorme. Corri a seguirmi anche su Insta per la parte 2.